8-9 8-9 8-9 partiti attenzione di là di là attenzione attenzione bimbi spostatevi spostatevi ecco che arrivano questa massa questa marea di bimbi arrivati bellissimo con la maglietta arancione sante dj musica diventa 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 vai musica piano partita una gara gara di 400 metri il giro di è stato spostato più avanti prossima alla mia sinistra su grazie a sante a cartella 500 metri Insegnerle te la pensa? Ah sì, grazie, grazie, grazie Carlo. Grazie, grazie, grazie. Il gruppo inizia la sua gara, iniziano gli 10 km. Il dono è costato, 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 il dono è costato. Grazie. E' anche una festa. E' soprattutto una festa.